Ciao a tutti gli amici di Facebook, appunto perché siamo su Facebook e ci conoscete, siamo anche al maestro Marco Favone. Siamo ritornati ad allenarci dopo la sconfitta di Sparta 2012, Parma in the cage, ci sta a perdere su una arm barra dal campione italiano di graphing, anche se è una sconfitta prode, ma sono quelle che ci fanno crescere, quelle ci fanno crescere. Ci spaventiamo, neanche un po', infatti già dal giorno dopo subito in palestra, adesso io sono qua con l'aiuto dal maestro e amico Marco Favone, mi seguo per quanto riguarda la parte in piedi, preparazione atletica, la parte che siamo già amici per il gemellaggio dove c'è la falange del Bellator, quel punto avventi in pavone. Niente, che dire Marco? Siamo solo soddisfatti e non vediamo l'ora di menare le mani. Infatti, adesso stiamo aspettando che mi danno la conferma gli organizzatori delle RANN FC4, Marco se sarà così sarà con me a Bocchio Gabbia, io a Roma. Onoraggio, hai fiero di portarlo all'angolo, ragazzi. Grazie a te, io sono aiuto istruttore alla New Artifex di Cilavegna, il maestro è l'inno del cuoreccio, io sono Tony Maio e se volete venire qui a Milano facciamo vedere il doggio, un prestigioso, come dico sempre, prestigioso, on-budoggio dal maestro amico Marco Favone in via Palmaria 6 a zona Afori, non Afori, Afori Centro, ragazzi. Afori Centro, ok. Forza Tony Chazzo, grazie, ciao a tutti.